Video Optical See-Through Augmented Reality System, in una parola VOSTARS, un acronimo che dà il nome al dispositivo all'avanguardia utilizzato per un nuovo intervento da record che ha avuto luogo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, la prima operazione al mondo guidata dalla realtà aumentata, nel corso della quale un medico, il chirurgo Giovanni Badiali, ha indossato un visore, una sorta di occhiale 3D in grado di mostrare, in sovrapposizione agli elementi reali, anche oggetti virtuali essenziali per dare informazioni in più sul paziente e guidare il lavoro, come la linea esatta su cui fare l'incisione. Un esempio di chirurgia 4.0, risultato di un progetto europeo coordinato dall'Università di Pisa e che vede l'Ateneo e il Policlinico Bolognesi in prima linea come partner responsabili della sperimentazione clinica. In particolare l'equipe della chirurgia maxillofacciale e orale del Sant'Orsola, diretta da Claudio Marchetti, ha portato a termine fino ad ora, tra dicembre e gennaio, tra interventi di riposizionamento della mascella e della mandibola dei pazienti, uomini e donne tra i 20 e i 40 anni, così da ripristinare la funzionalità del morso e migliorare la loro respirazione. E ora si punta all'industrializzazione e alla commercializzazione del prototipo. Il chirurgo ha potuto seguire le indicazioni date dal visore direttamente sul paziente, come avere le indicazioni del navigatore dell'automobile direttamente dipinte virtualmente, ovviamente sulla strada. Il punto che molto spesso ci fa sbagliare usando il navigatore della macchina è che serve un certo tempo per passare dalla visione del cruscotto alla visione della strada. Se le indicazioni sono mostrate direttamente sulla strada, questo tempo si annulla e ovviamente magari l'incrocio che si perde non si perde più. L'obiettivo è proprio quello di riuscire a fondere, dal punto di vista percettivo, la realtà e il virtuale in maniera perfetta. L'avere programmato un intervento chirurgico che finora è solo nella mente del chirurgo stesso e che eseguirà, lui immagina, di eseguire il giorno dopo, è possibile trasferirlo con le nuove tecnologie esattamente in sala operatoria e riprodurlo. Questo è un fatto culturale estremamente nuovo e che, a nostro parere, aprirà un orizzonte diverso e molto molto affascinante per tutti i chirurghi. Questa è un'altra dimostrazione di una sanità pubblica che è un'eccellenza non solo regionale o italiana ma va oltre i confini di questo paese. Dall'altra credo che questo risultato dia ragione all'investimento che stiamo per fare sulla Big Data Valley, perché tutto ciò che ha a che fare con i Big Data, la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, troverà una risposta straordinaria anche dentro a quell'investimento sul super computer tra i più veloci al mondo di calcolo su Big Data, perché tanto serve anche non solo alle imprese ma anche alla ricerca, alla scienza e alla medicina.